è una bella macchinina, sono già i blocchi davanti Della RAI siete voi? Si eh? No, io ho media sette Ma RAI non piace Della RAI? Ma lo devi mettere in manuale se non vuoi che vada su Anche lei ne l'ha fatto prima, perché il partito ha tagliato ... ... ...